E' un momento molto favorevole per tutti i contenuti in genere come sapete perché chiaramente ci sono tantissime piattaforme, nuovi player che chiedono contenuti anche di qualità e quindi questa è una grossa opportunità sia per i produttori di fiction ma anche per noi di cartoni per poter mettere in produzione delle serie che magari avrebbero trovato meno possibilità in alcuni altri outlet. La situazione è molto positiva, infatti anche in Italia delle realtà piccoline stanno crescendo e facendo esperienza grazie anche a questi investimenti nuovi che stanno arrivando. Sì, live show stiamo anche qui facendo un tour dei 44 catti in questo momento, una serie che sta avendo un enorme successo a livello mondiale che in Italia essendo partita prima quest'inverno siamo già capaci dopo un anno di portare in giro lo spettacolo live. Nei cartoni abbiamo presentato due serie nuove ora al Milcon Junior di Cannes che sono state molto ben ricevute dai buyers e andranno sicuramente in produzione. Poi abbiamo delle serie di fiction che stiamo realizzando sia con Netflix che con gruppo Sky che con altri player importanti, queste in parte come Rainbow, in parte come Colorado. E infine la Colorado Film che sta andando benissimo perché è ancora il film campione di incassi di quest'anno italiano e ora stiamo per uscire con il nuovo film di Carrisi attesissimo il 30 di ottobre e speriamo che faccia ancora meglio del primo che era andato benissimo. Grazie. 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 Grazie.